Viene definita un'occasione irripetibile, una riforma deve rendere giustizia alla giustizia. Il tema è stato affrontato nel corso di un dibattito promosso dal Partito Democratico nel capoluogo ionico, a confronto coloro i quali ogni giorno operano nelle aule di tribunale e il mondo della politica. In apertura e in collegamento video un intervento molto tecnico da parte del governatore pugliese Emiliano che per l'occasione ha indossato nuovamente i panni del magistrato. A tirare lo somme invece è stato l'onorevole Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati, un gradito ritorno a Taranto. A dettagliare carenze attuali e proposte di possibili soluzioni invece l'ordine degli avvocati di Taranto e le sezioni locali di Aiga e Camera Penale. Ma la giustizia italiana spesso lenta e farraginosa come va riformata. Io personalmente sono un po' critico perché non credo che soltanto con delle riforme di fatto a costo zero, quindi sul rito, riforme di legge, si possa raggiungere l'obiettivo che è quello di accelerare i processi. È necessario invece investire le risorse per la digitalizzazione, l'informatizzazione, quindi acquistare tecnologia e soprattutto assumere personale, dipendenti, amministrativi e sicuramente un maggior numero di magistrati. Se non si arriva a questo, difficilmente si faranno grandi passi avanti.